eccoci qua finalmente siamo arrivati dopo la boxing di mario tennis open ecco qui aspettiamo ecco boxing di idika rosa pricing bello meraviglioso blu e aspetta fuoco ecco questo è così questo le carte giochiere a ah diamo un'occhiata una notifica spot pass aspetta che un attimo apro la professione aspetta che io mi scusi il gioco le carte e lo stand e prima cosa lo stand ecco ora vediamo la notifica aspetta nuova lettera aspetta lo stand meraviglioso anche andiamo a vedere gli appunti di gioco lassù non te ne pare non è possibile non è possibile beh siamo arrivati ecco apriamo velocemente aspetta chiudo il gioco ecco kid icarus oh no guardare punti distruzioni base base ecco 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 Scontri, giocatori, eccetera. Beh, ricordati. Ah, bello. Pit. Andiamo a guardare l'altra parte. Solita pubblicità in 3DS. Peccato. Beh. Solito 3DS. Vabbè. Passiamo. Basta così. Passiamo alle carte della Rolls Convento. Aspetta un attimo. Lo stand abbiamo fatto così. Come si chiama? Supporto per il Nintendo 3DS. Diamo un'occhiata alla carta. Beh, facciamo le carte. Ecco, giusto per che abbiamo acquistato l'album. Lo faremo la prossima volta. Ricordati, l'album è molto importante. Lo stand è lo sportato del Nintendo 3DS. E tranne così abbiamo fatto un gioco molto bello. blu, bellissimo. Eggie 12 è il meraviglioso artwork Pit. Perfetto. Diamo un'occhiata. Insieme sono tutti e due Nintendo Network. Mario Tennis Open. L'artwork con Mario Yoshi, Peach e Bowser. E l'artwork di Pit di Kid Icarus. Meglio che augurare un buon fin. È finita la boxing. Ci rivediamo a presto. E ci vediamo alla prossima. Ricorda, ciao.